Ad Agrigento domani giovedì 21 aprile al Teatro Pirandello alle ore 18 in concerto il pianista palermitano Antonello Manco. Ascoltiamo in proposito il maestro Pippo Flora. Ad Agrigento giovedì 21 aprile al Teatro Pirandello dalle ore 18 e 30 in poi un concerto ad opera del pianista Antonello Manco. E' importante dire che avremo il piacere a livello nazionale e dire poco perché è stato al Carnage Hall a New York, è stato a Mosca, è stato nel mondo. Essendo un artista palermitano mi fa piacere che la Sicilia sia rappresentata quasi in chiusura di questa rassegna che è una cosa lodevole. Ci tengo a dire che è una rassegna a cui tutti hanno partecipato gratuitamente e che poi si concluderà con la serata finale in cui c'è il conservatore Ribera, c'è la scuola civica di Agrigento. La cosa bella per me è notevole che tutte le serate sono state un tutto esaurito al foyer del Teatro Pirandello. E non meno importante è dire questa chicca, cioè dire che noi ad Agrigento ospiteremo un pianista che è stato nel mondo e che è siciliano. E che Benji ci ha rappresentato in tutte le fasi della sua attività concertistica. Che gli agrigenti ne vengano penso che non ho dubbi perché sono venuti negli altri concerti tutti di altissimo livello che voi avete anche seguito. Il maestro Pippo Flora sostiene attualmente una iniziativa lodevole al Teatro Pirandello ad Agrigento. Si tratta in estrema sintesi di un centro di reclutamento per giovani talenti, per aspiranti artisti. È un centro sperimentale. Ci tengo a dirlo che sono un agronomo. Da Agrigento ho piantato le piante, lungo Mare San Leone, Villa del Sole, eccetera, che hanno avuto un grande successo. Io sono dovuto andare a riscuotere con Michele Guardi e dovunque, con Tony Cucchiara, fuori. E il mio augurio è che la pianta dell'arte prenda il successo. E devo ringraziarvi per le televisioni che hanno partecipato gratuitamente alla pubblicità. Che più di venti laureati in conservatori hanno aderito a questa iniziativa perché è un'orchestra. Più di venti giovani vorranno fare parte del centro sperimentale per il teatro musicale. Altrettanto, nomi a me cari, ma cari a tutti gli cregentini, Gian Domenico Vivacqua, Giovanni Moscato, Giussi Carrega e decine di altri, che hanno voluto partecipare. Quindi due bei momenti. Un concerto di alto livello che ci qualifica come teatro. Ci tengo a dire tutto a costo zero. e il ringraziamento ennesimo va fatto a chi ha creduto in questa idea. Quindi parlo del sindaco, parlo del direttore generale. E speriamo bene perché è una pianta che si prende, a Grigento finalmente avrà una compagnia di prosa, una compagnia di musical e, non meno importante, un'orchestra. Grazie a tutti.